Ciao a tutti ragazzi, sono Carlo e che è Carlo e questo è ovviamente Cimia Benvenuti in questo nuovissimo video su StumbleGuys E i video che sto portando ultimamente sul mio canale di StumbleGuys E mi stanno piacendo tantissime, quindi io continuo a portarli Mi avete consigliato in tantissime di guardare soprattutto le offerte su StumbleGuys nel negozio E ho qua davanti una assurda, e quindi direi di cogliere la palla al balzo E inoltre ragazzi, sorpresa delle sorprese Oggi giocherò per la prima volta in tutta la mia vita con i fan Infatti tra un po' farò una storia su Instagram e inviterò il fan Andiamo però prima a shoppare Allora, davanti questa offerta rara, quindi io direi di prendere questa intanto Ok, guardiamo subito, skin epica Ok, questa non ce l'ho, non ce l'ho Guardiamo un'altra Per favore dammi una leggenda, per favore Ok, neanche io ce l'ho Dai, dai, ti prego, ti prego Cosa ho pagato a fare? Va bene, comunque ci sta il leone Per favore, per favore, per favore Rara Che carino lui però Non ce l'ho lui Vorrei troppo il robottino Questo non mi piace Vabbè, comunque dai, non c'è male Vorrei anche fare, vediamo Questa, premi gratis Comune 5 gettoni, normale 5 gemme, sì, ok E poi finché ci siamo direi di acquistare anche questo 8 euro con 1600 gemme E 75 soldi di Stumbleguys Ok, abbiamo 1650 monete, ok Ok, andiamo in negozio E adesso riproviamo a spinnare la ruota E vediamo cosa ci danno Allora, proviamo questa Innanzitutto E facciamo Ok Riceveremo 10 skin Speriamo almeno qua Di trovare una skin leggendaria Ragazzi, praticamente Quando ho acquistato Per far spinnare la ruota Mi si è buggato il gioco Quindi sono dovuta uscire e rientrare Ma mi aveva già scalato le gemme Quindi non mi ha fatto vedere l'animazione Però, a quanto pare Ho ricevuto anche una skin leggendaria Che questa io non ce l'avevo Sono sicura E credo mi abbia aggiunto anche delle skin epiche Ad esempio Questo Non credo di averlo E mi ha aggiunto anche qualche skin rara Tipo questa non ce l'avevo Sono sicura E credo anche queste tre qua Non le avevo Anche il pinguino è nuovo Mi dispiace non aver visto l'animazione Che è una memoria pessima per queste cose Però credo che queste siano le Quelle nuove E sono soprattutto felicissima Di aver avuto la leggendaria Grazie a Dio Adesso, siccome abbiamo altre gemme Con la speranza che non si blocchi ancora Proviamo a spinnare un altro po' la ruota Allora, andiamo in negozio Spegniamo prima questa Ne possiamo fare 720 Va bene, ok Per favore Non ti bloccare, per favore Errore Niente da fare Continuo a darmi errore Provo un attimo a uscire Rientrare Per capire E vediamo se me le da comunque Stessa cosa di prima Mi ha scalato le gemme Però a quanto pare Deve avermi anche dato le skin Immagino Allora, leggendaria Purtroppo non abbiamo ricevuto nulla Di epico Vediamo se c'è qualcosa Oh, bello questo Dio, che carino Bellissimo Anche il demone nero Bello Questo non li avevamo prima E di scherrare Cos'è che abbiamo ricevuto Vediamo Si è aggiunto qualcosa Si è aggiunto, mi sa, il vecchio Ma che carino che è lui Face tanto Trollo E non saprei dire Che altro si è aggiunto La strega, mi sa Proviamo adesso a usare i soldi Per le skin epiche o superiori E ce ne possiamo permettere Quattro, mi sa Si, esatto Ok, finalmente riesce a spinare la ruota Vediamo Per favore, per favore Uffa, ce l'ho già Ce l'ho già Per favore, leggendaria Per favore, per favore Che carino Legendaria, leggendaria, leggendaria Legendaria, leggendaria Questo non ce l'ho Carino No, ragazzi Era un passo Andiamo a rispinnare la ruota Ancora Ancora E adesso è giunto il momento Di invitare i fan A giocare con noi Stiamo aspettando Che si aggiungano Le ultime due persone Intanto colgo l'occasione Per salutare tutti E manca solo una persona Siete arrivati in pochissimo E quindi un saluto speciale A tutti quelli Che stanno entrando adesso In questa lobby E che poi vedranno questo video Vi mando un bacione Grazie per partecipare a questo video Siamo pronti per giocare Ok Ho paura Sarete forse troppo bravi Molto più bravi di me Sicuramente Ok Allora Ci siamo Arriva la scelta della mappa Oddio Questa mappa Questa mappa Gesù Ok vai Guarda come sono tutti più bravi Sono caduta subito Ho beniziato Di là Ok Wow Mi state già superando In tantissimi Siete micidiali ragazzi Infatti Ho letto che Anche su Instagram In molti mi avete detto Carli ma se vuoi ti do Come ripetizioni Di Istanbul Guy Io l'apprezzo tantissimo Ragazzi Mi fa piacere che Non siate in abbi Così tanto come me Guarda in quanti Stanno già arrivando La Uh 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 Stavo per cadere Poi ovviamente nel caso Dovessi vincere Aspetterò un po' di voi Per cercare di capire Come vi sta andando Uh Sono caduta Come ho fatto a cadere Dai No Sono caduta Proprio all'ultima No 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 Bravi ragazzi Ho superato E adesso aspetterò un po' di voi E commenterò un po' Tipo Telecronaca Oddio ma Pietro Ma tu hai una skin super Ma cosa Io adoro lo scheletrino Vi siete vestiti proprio bene Per vedere questo video Oddio lo squalo No vabbè Ma siete splendidi Attenzione Emanue Attenzione Scappa Attento Oddio il conduttore Scappa No Cindy Credo sia Cindy Cindy è caduta Emanue intanto sta qua Lontano dal pericolo Ma non sacca una bomba vicino E sta per morire Porca miseria Emanue Però mi deludi Qua Il conduttore Salvo Ciao Vai Luca Scappa da tutti i guai Scappa Si sono tutti quanti Radunati qua In questo angolino Lontano dal pericolo Avete vinto Grandi Grandi raga Grandi Un saluto a Manue E a tutti quelli che sono caduti Vediamo chi sarà il vincitore Di questa grandissima sfida Oddio quello del miele Io l'adoro questa È difficilina Però è carina Allora Pietro con la sua skin speciale Che ci fa rosicare tutti Mi raccomando Salto Complimenti a questa signora Barra signore Che ha vinto Proviamo a vedere Se sono capace Nel prossimo round Ok Ci siamo di nuovo Con un'altra stanza Perché quella di prima Ma è crashata Perché oggi Stumbleguys Ha deciso di comportarsi così Riproviamo a giocare Una volta che siamo in 32 Manca solo una persona Come sempre Non so se sia giunto qualcuno Di nuovo rispetto a prima Nel caso Saluto i nuovi arrivati Ciao a tutti Benvenuti in questo nuovissimo video Oddio no Questo l'odio Questo l'odio Adesso stanno tutti qua fermi Ad aspettare Che ci sia un blocco Che funzioni Eccolo Sono qua i blocchi Che funzionano Coraggio Questo l'odio Con tutta me stessa Ok Avanti Questo no Sono caduta Porca miseria Ragazzi Porca miseria Odioso Questo l'odio Con tutta me stessa Questa mappa Coraggio Ragazzi Vedo che ce la state facendo No Manca solo da persona E ancora una volta Sono delibidata Spero vi capito Una mappa carina E semplice Ok Ed è questa L'ho odiata tanto Ma non c'è male Devo dire Ho visto mappe peggiori Oh Ragazzi Devo dire Comunque siete veramente Forti Cioè si vede Che io ho giocato Con dei gran nabbi Fino adesso Cioè tutte le vittorie Che ho fatto Sono state Botte di fortuna C'è anche Totix Ciao Totix Il conduttore Ecco Grande il conduttore Che è qua da prima Oh Si stanno Dando del filo Da torcere Eh qua Sono tutti bravissimi Chi è che sta arrivando Primo Uh Michepro Ok Questa è la vostra finale Avanti ragazzi Sono sicura Che ce la farete Chissà chi sarà il primo Michepro Lo vedo Molto sprolato Ad arrivare primo Ma viene superato Da Totix E da 23 tati Simodumbo 07 Sta saltando Tutti Oh mamma mia Che trick che ha fatto È saltato Sopra i muri Ok Michepro ha ripreso Ok Michepro ce la sta facendo Michepro ragazzi Sta stracciando tutti Vai Michepro Il conduttore Vuole superare Michepro Il conduttore ce la fa Ma ce la fa Michepro Ragazzi che partita Questa Un applauso Michepro Mille Grandissimo Ragazzi una cosa incredibile Come io metto una storia E nel giro di Un minuto E mezzo Due minuti Subito la stanza Si riempa Grazie mille Davvero Vi apprezzo Tantissimo Per questo Allora Vediamo già i nuovi Partecipanti Di questa Nuova sfida Questa è quella Che ho fatto con Ale Mamma mia Me la ricordo Terribile La odio Con tutta me stessa Questa Allora Vai Aia Abbiamo sbattuto Tutti quanti qua contro Corri 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 Ma è che forse Riesco a qualificarmi Almeno questa volta Uh Mi ha preso in faccia Diretto Uh No Sono volata fuori Vandaggia Comunque Raga Ve lo posso dire Vi faccio un complimento Giocare con voi È tutta altra cosa Rispetto a giocare Con la gente Con cui gioco Normalmente Perché siete Tipo Fortissimi Ne ho fatte Di partite Non dico tantissime Ne ho fatte tante Però Vi giuro Giocare con voi Siete veramente Dei pro Congratulazioni Ragazzi Complimenti Davvero Il calcio Mio dio Io adoro Questa mappa L'odoro Allora Qua vediamo Chi riesce a fare I gol La squadra blu Per il momento Ci sta provando A buttare la palla Nell'altro campo Avanti ragazzi Dai Coraggio Coraggio Qua stato Hanno fatto un gol Me lo son perso Parca miseria Non è facile Aspettare Entrambe le squadre Qua hanno fatto un gol Tre gol Per la squadra blu Grandi ragazzi Guarda in quanti Sto facendo gol Ho squadra gialla Sveglia ragazzi Mi sento una mamma Tipo che guarda I suoi figli Che giocano a basket E li incoraggio Ma Adinolfi Cosa fai Non vedi che Nei è troppo veloce Bisogna spostarsi Adinolfi Ci vuole provare Raga Che vi devo dire Forza Pietro Ma che bella skin Che ha lui Ma che bro Raga L'ha fatto dai muretti L'ha fatto dai muretti Forza No Dotix È rimasto giù Fili Fili Coraggio Qua Mattcam Ha deciso Di rimanere lì in basso Ho detto Cioè io non ce la faccio Raga Grande Un applauso A A G6 5 Spero si rega così Sennò ti chiedo scusa Ok Sono anche qua in fondo Un bel salto Per superarvi Chi è che è rimasto lì in fondo Visto qualcuno Che è rimasto lì fermo No Cosa è successo Mannaggina Porca miseria Ok Salgo da qua Forse ce la faccio Insieme a Franciscarpa Coraggio Franciscarpa Io ti capisco Salto 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 Coraggio Qua Uh Che pelo Che ho fatto Ok Od è che forse No sto zitta Sto zitta Perché se no mi porto Mi porto sfortuna Oh Sono riuscita a qualificarmi Oh Che bella notizia Mamma mia È la prima partita In cui riesco a qualificarmi Uh qua ce ne sono due No Mi sono fulminata lì in mezzo Porca miseria Sono stata la prima Ah ah Sono stata la prima A essere eliminata Io mi immagino Questi poveretti Che giocano con me Cosa penseranno Diranno Oh ma questa Ma proprio schifo Ah 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 Avanti ragazzi Sono vostra fan Ce la farete Ce la farete Tutti che hanno messo Le risate E il teschio Della morte Ah 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 Yoshi ma che skin Ha ma è bellissima Yoshi Ice Ma che skin È questa Ma spacca Ma è bellissima Anche Filippili Che c'ha La musica dietro No 8 eliminati Di già ragazzi Vai Filippili So che ce la puoi fare Filippili Continua Adinolfi Che prima Stava provando A fare la cosa Della barra E non c'è riuscita L'ha fatto per tanto tempo E non ce l'ha fatta Congratulazioni ragazzi Siete stati fantastici Bravissimi Mi raccomando Seguitemi su Instagram Perché se quando escono Queste cose Un po' sorpresa Ve lo dico nelle storie Mi ha fatto tantissimo Piacere giocare con voi Spero che questo video Vi sia piaciuto Da Carli Da Cime Tutto Noi ci vediamo Prossimamente Con un altro video Ciao E poi avete Trajardato un sacco Un sacco E dovete avere pazienza Con me che sono nabba Oh Che brutta Questa quella Ha 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 ha